Le funzioni lineari sono le funzioni più semplici da calcolare. La prima domanda che ci si pone quando si studia la variazione di una funzione è se varia linearmente oppure no. Per le funzioni lineari, infatti, a incrementi costanti della variabile indipendente corrispondono incrementi costanti della variabile dipendente. Una funzione lineare può essere descritta come una macchina input-output, che opera su ciascuno dei suoi input moltiplicandolo per un numero reale q e addizionando al risultato ottenuto un altro numero reale q. Per esempio, se p uguale a 3 e q uguale a 1, la macchina associa all'input x l'output 3x più 1. In particolare, se x uguale a 4, allora l'output y è uguale a 3 per 4 più 1, cioè 13. Come per tutte le funzioni, anche per rappresentare le funzioni lineari si utilizzano tre modalità privilegiate. Le tabelle, cioè la rappresentazione numerica, i grafici, la rappresentazione grafica e le formule, cioè la rappresentazione simbolica. Consideriamo per esempio questa tabella che rappresenta alcuni valori della funzione y uguale a 3x meno 2. Nella prima colonna compaiono alcuni input, che variano con passo costante uguale a 1. Nella seconda colonna compaiono gli output corrispondenti. Nella terza colonna compaiono le differenze tra due output consecutivi. Come si può notare, tali differenze sono costanti. E non è un caso. Se gli input di una funzione lineare variano con passo costante, allora sono costanti le differenze prime degli output, cioè la sequenza delle differenze fra ogni output e quello che lo precede. Si tratta di una proprietà caratteristica di tutte le funzioni lineari. Proprio per questo fatto, cioè che a variazioni costanti della variabile indipendente corrispondono variazioni costanti della variabile dipendente, il grafico di una funzione lineare è una retta. Sappiamo che per disegnare una retta basta conoscere due suoi punti. Quindi, per disegnare il grafico di una funzione lineare, è sufficiente determinare due coppie qualsiasi di valori x e y, ciascuna delle quali corrisponde a un punto del grafico. Per disegnare il grafico della nostra funzione lineare y uguale meno 3x più 1, è sufficiente conoscere, per esempio, i suoi due punti a di coordinate 0,1 e b di coordinate 1, meno 2. Abbiamo detto che una funzione lineare opera su un input x moltiplicandolo per un numero p e addizionando al risultato ottenuto un numero q. In simboli lo possiamo scrivere in diversi modi, per esempio scrivendo che x viene trasformato in px più q, oppure scrivendo che l'output y è uguale alla somma fra il numero q e il prodotto dell'input x con il numero p, o ancora scrivendo che f è una funzione lineare di x che viene trasformato, mediante f, in px più q. Per esempio, se la nostra funzione trasforma x in 5x più 3, allora f di 0 è uguale a 3, f di 2 è uguale a 13, e così via. Per prepararti alla lezione, prova ad affrontare il problema di apertura dal titolo Il costo dell'ingresso al cinema, e prova a eseguire l'esercizio 1 della parte Strumenti di lavoro. Buon lavoro!